Ok, allora benvenuti, vediamo questa sera brevemente una carellata di quello che è possibile fare con le normal map e con le specular map qui come vedete abbiamo un insieme di oggetti, di sfere, che sono state realizzate utilizzando varie combinazioni di normal map, di specular map e nel caso della versione di destra, tipo questa, vedete questa qui, in realtà vedete che c'è anche una mesh di base molto dettagliata quindi questa mesh pesa in questo momento 53' c'è un land impact di 53' e così via anche tutte quelle che vedremo in seguito mentre invece nelle parti di sinistra sono tutte sfere che sono fatte con mesh che però hanno un peso molto basso quindi pesano un solo primo, quindi hanno pochissimi vertici diciamo che questa ha credo un 12.000 vertici e questa sfera qua ne ha soltanto qualche centinaio di vertici vedete adesso faremo prima di tutto una prima carellata, vedete che andando fino in fondo vedrete che effettivamente la versione con multi prime, cioè quella, ha un aspetto tendenzialmente anche più realistico soprattutto se ci fate caso sul contorno, vedete che il contorno è zigrinato perché in realtà è proprio quello lì che segue un po' tutte le curve, quello che fa è la texture che fa molto ma questa è una novità interessante, ho scoperto che anche la specular map dà un suo contributo molto interessante ma anche la versione un solo prime, vedete, riesce ad avere degli effetti fenomenali perché questa sfera, vedete che in realtà non ha molto da invidiare a quest'altra sfera qua, adesso qui vedete forse un pochino più scuri ma in realtà dipende dai colori usati e quindi la cosa più importante è che l'effetto, la resa è quella si capisce un po' che qui ci sono molti meno prime dal contorno, vedete che il contorno è zigrinato vedete che qui non è curvo e segue fondamentalmente una specie di tipo esagono, insomma contorno regolare poi come avete notato per far risaltare meglio i rilievi, le normal map e le specular map ho costruito una specie di box più o meno chiuso e all'interno di questo box mi sono creato delle luci quindi in particolare, non so se lo sapete, si può definire nella, attendiamo un attimo, controllate F1 vedete che se io prendo un pannello e gli faccio, vado edit, vedete che nelle features, nelle caratteristiche c'è la possibilità di farlo funzionare come luce quindi io ho definito questo muro qua che proietta una luce gialla mentre dal soffitto arriva una luce verde e poi vedete che dal fondo c'è una luce rossa adesso questo effetto albero di Natale mi serve fondamentalmente per farvi vedere i riflessi e per farvi vedere i rilievi che sono le cose fondamentali dei materiali che sono stati possibili in Second Life soltanto da un mese o due, un paio di mesi e non so se ci state facendo caso, io sto usando Firestorm Firestorm è una versione di beta che è già uscita da un paio di settimane no, forse un po' di meno, comunque adesso siamo a metà agosto e come vedete Firestorm sta già supportando i materiali e quindi è pensabile che per settembre quasi tutti quelli che entreranno in Second Life potranno usare e vedere queste caratteristiche ma allora andiamo con ordine quindi partiamo con la versione a molti primo questa qua vedete che questa qua nella versione dove c'è proprio soltanto la mesh in realtà non si distinguono tutti i rilievi ma sono appena accennati però quel quanto, quel poco che è accennato è già sufficiente vedremo per dare un'idea abbastanza buona tra l'altro a seguito di questo video farò poi una serie di altri video dove vi farò vedere come costruire queste mesh come costruire le normal map e le specular map che sono state usate per questo esperimento poi ve ne farò vedere anche alcune già fatte in attesa poi di imparare a usarle a premessa tutto questo vi faccio vedere non è valido in particolare la specular map e la normal map non sono ancora validi in OpenSIM quindi si parla soltanto di Second Life al momento anche se è pensabile che entro un anno o giù di lì si compaiono anche in OpenSIM in craft quindi sicuramente è pensabile che ci saranno allora dicevo questa qui vedete è semplicemente il pezzo da 53' in cui c'è solo la mesh vedete che riflette in maniera vaga insomma le luci ambientali però non è che le riflette un granché mentre invece nel momento in cui qui vedete che ho aggiunto questa qui c'è soltanto lo speculare ecco il fatto che abbia soltanto lo speculare è che dia già un'idea interessantissima di quelle che sono che è la texture questa è già molto interessante perché la mappa speculare di per sé non è una texture visualizzabile è solo un qualche cosa di bianco e nero e il fatto che la vedete colorata dipende fondamentalmente dai colori che vengono riflessi quindi cioè questo oggetto non sta diffondendo luce propria quindi non ha dei colori propri ma sta semplicemente riflettendo le luci che lo circondano e già in questo modo vedete che anche se se non c'è la texture si ottiene un effetto molto interessante nel momento in cui aggiungiamo la texture in questo caso la texture non è molto colorata quindi in realtà non aggiunge un granché di suo l'unica cosa forse che potete notare è che c'è un pochino più di marroncino perché la texture ha un po' più fatta sul marroncino volendo intanto vedete che quando la seleziono si vedono tutti i vertici di cui è composta che sono tantucci comunque se vogliamo vedere la texture vedete che gli ho messo un pochino di arancio come colore e gli ho messo la texture questa che è una texture che vedete non è molto pronunciata ma la texture volendo potrei anche metterne una un pochino più pronunciata quindi questa qua vediamo no questa qui no questa ah no vediamo questa qua ok vedete che la faccio un pochino più pronunciata vedete che nel momento in cui gli aggiungo una texture che ha un po' di colori più vividi la differenza si vede perché comincia a dare molto più colore diffuso che non colore riflesso vedete che questo qui dà soltanto colore riflesso mentre invece questo qui dà un colore suo quindi vedete che in realtà la texture dà comunque un contributo notevole però ripeto la cosa eccezionale è che anche soltanto la mappa la specular map dà già un significativo vantaggio comunque torniamo invece alla nostra versione a basso contenuto di pre vedete che qui gli ho messo soltanto la texture e qui essendoci poca luce e non riflettendo quasi niente non si vede quasi niente quindi questa qui è un po' brutta c'è solo la texture ma nel momento in cui aggiungo la specular vedete che la specular fa brillare un po' in funzione di quelle che sono le luci ambientali se poi aggiungo anche una texture vedete qui c'è ah no se aggiungo anche la normal vedete la differenza fra questa e questa in realtà è sottile ma interessante perché si cominciano a percepire i rilievi vedete i rilievi qui si vede piatto mentre qua vedete che man mano che gira il fatto che le sfere girano è importante perché è soltanto quando si girano che si vede gli effetti bene delle normali e poi nell'ultimo caso invece oltre a aver aggiunto diciamo la quindi qui avevo messo normal più specular ed era già interessante ma c'erano soltanto i riflessi e qua abbiamo messo invece la texture anche come vedete c'è oltre a riflettere genera anche un colore suo e come vedete genera un colore suo che è abbastanza brillante in teoria si potrebbe ottenere una cosa molto molto simile a quella che c'è di qua insomma basta solo pasticciare un po' per avere degli altri effetti ad esempio qui volendo vedete che qui tra l'altro la differenza nella texture è che qui è molto più un po' più complicata vedete che perché devo per ogni faccia vedete queste sono una faccia qui c'è un equivalente nella texture mentre invece le texture di questi oggetti qua sono delle texture un pochino più nel senso che viene proprio solo messo la texture di una sola faccia quindi in realtà dal punto di vista della texture questo la soluzione ad alto numero di prim in realtà è più efficace perché riesce a ottenere con maggiore qualità le texture quindi c'è la resa degli effetti mentre invece con questo sistema in realtà si perde un pochino di qualità ma come vedete comunque non è così tanto visibile e come vedete tra l'altro in realtà l'oggetto non è completamente simmetrico ho fatto un esempio per farvi vedere che ecco vedete che ha anche delle assimmetrie le stesse simmetrie si possono comunque simulare vedere anche nella versione fatta qua nelle prossime video vi farò vedere con chiarezza dicevo il meccanismo costruttivo con cui ho prodotto questo tipo di ripetizioni insomma che sono un po' delle strutture aliene diciamo che però possono essere con un po' di fantasia e di capacità manualità possono essere usate anche per fare cose un po' più standard un po' più classiche tipo abiti vestiti o via discorrendo una sola cosa volevo provare cioè volevo non so se l'avevo provato prima faccio questo che è diciamo sfera sfera normale da indossare perché perché voglio vedere quindi prendo una copia di questo oggetto e poi provo a indossarlo per vedere se effettivamente anche se è indossato riesco a a vedere facciamo nowhere ok perfetto e allora come vedete e questo forse può essere la cosa più interessante per alcuni di quelli che mi seguono che se fate dei cappelli e dei vestiti in questo modo in realtà anche una volta che l'avete indossati il vedete che si ottiene un bel effetto quindi un effetto che prima era praticamente impossibile da realizzare questa è una specie di avatar sferoide tanto per dire mesh con gli effetti specular e via discorrendo il cui costo come abbiamo appena dimostrato è semplicemente di un prim il che è notevole allora arrivederci alle prossime incontri in cui vi spiego come facciamo effettivamente a fare tutto ciò ci risentiamo buonasera a fare tutto ciò è